Eccoci qui! Buonasera, buonasera a tutti giovani, come state? Bentornati dal vostro Steve sul canale di Comic Society. Questa sera siamo qui per vedere insieme i 10 volumi unici migliori del 2021. Non l'ho messo nel titolo Graphic Novel perché non sono solo Graphic Novel, qui in Italia sono anche volumi unici che racchiudono una serie, una miniserie magari. E quindi ho messo volumi unici che siano sia Graphic Novel sia miniserie raccolte in un volume unico. Partiamo subito con la decima posizione. Questa è proprio una decisione di cuore più che altro perché devo dire che forse è il volume dell'autore che mi è piaciuto di meno, però è quell'autore lì. E ogni volta che esce qualcosa di suo io non posso che chiamarlo, cioè c'è poco da fare. Beta Ray Bill, stella d'argento di Daniel Warren Johnson. Messo decimo in classifica tra i migliori fumetti perché in questo volume Daniel Warren Johnson fa semplicemente quello che sa fare meglio. Mette dell'avventura sfrenata, combattimenti esaltanti, il wrestling, diverse scene di pathos ed emozione. Però, se devo essere sincero, come dicevo è forse il prodotto meno particolare di tutti quelli che ha fatto Daniel Warren Johnson. Non per questo non è un gran bel fumetto. Beta Ray Bill, personaggio creato da quel mostro di Simonson, ne prende la gestione di Daniel Warren Johnson. E fa una storia di riscossione del proprio nome e del proprio onore da parte di Beta Ray Bill. Beta Ray Bill che è un Corbinita. Un alieno che ha subito delle trasformazioni e un percorso difficilissimo, dolorosissimo. Che l'hanno portato ad avere questo particolare aspetto che è destinato solo ai migliori, al migliore combattente Corbinita. I Corbiniti di per sé hanno un aspetto piuttosto umanoide, ma lui si è sacrificato, ha sacrificato diciamo la sua vita personale per diventare il salvatore del suo pianeta. E purtroppo non ci è riuscito, per colpa di chi? Per colpa di Surfur. Di Surtur, scusate. E in questo viaggio Beta Ray Bill non solo va a riscattare il suo nome nei confronti di Thor che lo ha bistrattato, ma va anche a compiere un viaggio di vendetta verso Surtur, a prendere nel posto in cui Surtur è morto la sua spada enorme e gigantesca. Questo diventerà una grandissima avventura spaziale, un grandissimo viaggio nello spazio dell'universo Marvel, dove non mancheranno momenti di enorme esaltazione, come vi dicevo, di combattimenti incredibili, ma non mancheranno anche momenti più introspettivi e un po' più emozionanti, perché per l'appunto vediamo il passato di Beta Ray Bill nel... Guardate che bella questa tavola, tra l'altro dove vediamo Murder Falcon qui nella sua stanzina suonare la chitarra, bellissimo. Vediamo per l'appunto il sofferto passato di Beta Ray Bill durante tutto il percorso che lo ha portato ad essere quel guerriero fondamentale che è formidabile, ma a perdere anche, come dicevo, il suo lato più intimo e più umano. Lo vediamo all'inizio in una scena veramente dura, dove viene, tra virgolette, rifiutato per il suo aspetto. E quindi la sua vita è dedicata intornamente alla lotta e alla battaglia. E appunto abbiamo dei momenti action incredibili, dove i disegni di Daniel Warren Johnson sono talmente dinamici da sembrare muoversi nelle pagine. Ovviamente ha inserito il suo amato wrestling, vediamo dei combattimenti corpo a corpo formidabili. Il tutto con questo stile che ormai, se avete letto altri volumi di Daniel Warren Johnson, e spero per voi di sì, lo contraddistingo questo stile di fumetto americano indipendente un po' influenzato dal fumetto giapponese con questi dettagli esplosivi in tutte le tavole e un dinamismo e un tavole che esplodono da dentro la triglia. Per me è veramente fondamentale. È all'ultimo posto di questa classifica, ma è comunque secondo me tra i dieci volumi, a volumi unici migliori del 2021 sicuramente. Anche solo per l'aspetto visivo e per quello che fa Daniel Warren Johnson, che è questo personaggio che è un personaggio secondario del Pantheon DC, se vogliamo. Quindi fa veramente un ottimo lavoro nel approfondire questo personaggio e nel delinearne alcuni aspetti psicologici che potevano essere stati tralasciati nelle gestioni precedenti, soprattutto perché era un personaggio molto spesso una spalla di Thor, ma non ha mai avuto un vero e proprio spazio dedicato a sé e qua ce l'ha. Sono curioso di vedere anche che tra poco uscirà come sarà anche Terra Morta dedicato a Wonder Woman sempre da Daniel Warren Johnson. Bene, questa era la posizione numero dieci. Andiamo alla posizione numero nove con qualcosa che ha uno spazietto particolare nel mio cuore, ovvero il rilancio, non è un rilancio, diciamo un piccolo volume sequel di The Boys, ovvero The Boys Cara Becky. Al volume nove abbiamo un ritorno nel magnifico per quanto mi riguarda mondo di The Boys. Abbiamo questo volume che fa sia da prequel che da sequel al mondo di The Boys. Dove vediamo per l'appunto dieci anni dopo la conclusione della serie abbiamo il buon Yugi e la sua amorosa, quella che ormai è la sua fidanzata, Annie, la ex Starlight, diventati una vera coppia. Hanno preso, hanno girato il mondo alla ricerca del proprio posto per poi arrivare a stabilirsi nel paesino nel paesino irlandese originario di Yugi. Tutto procede abbastanza tranquillo, più o meno, perché nella coppia ancora ci sono degli screzi, ci sono ancora delle ferite che rimandano a quello che è successo, a quello che hanno passato durante tutto quello che abbiamo visto in The Boys e queste ferite ancora a volte sanguinano, creano ancora piccoli screzi tra i due, ma la ferita si riaprirà definitivamente quando Yugi un giorno riceverà direttamente a casa da un pacco anonimo contenente niente proprio di meno che il diario di Butcher, un diario nel quale Butcher ha tenuto nota principalmente di quel periodo precedente all'ingresso di Yugi nei Boys, nel momento in cui i Boys si stavano formando. E questo porta Yugi a scoprire perché Butcher era fatto in quel modo, cosa ha portato Butcher ad agire in quel modo, a scoprire il passato dei Boys, quel passato che durante la serie abbiamo sentito solo nominare a volte attraverso poche frasi. E in più questo quaderno riporterà Yugi in quel mondo dal quale stava cercando in tutti i modi di sfuggire e di dedicarci alla sua vita normale con Annie e la sua famiglia perché chi gli ha mandato quel diario? Perché gliel'ha mandato? Questa ricerca di Yugi lo riporterà per l'appunto nel mondo dei super, nel mondo delle agenzie americane e tutto quel mondo dal quale lui stava cercando di scappare in realtà, di non tornare a tutti i costi. È un ritorno perfetto nel mondo di The Boys, che per me è una delle serie a fumetti migliori di sempre. Annie si riesce a mantenere intatto sia lo spirito più violento, esagerato, sia lato più romantico, perché ricordiamoci che The Boys è una grande storia d'amore, cioè Butcher fa tutto per amore di Becky, quindi è tutto collegato all'amore e allo stesso tempo mantiene anche quella vena di critica sociopolitica che lo ha caratterizzato. Qui, tra l'altro, è stato il primo fumetto che io abbia letto che va a parlare di Brexit e di pandemia. È la prima volta che vedo inserite tematiche così odierne in un fumetto. E niente, Annie fa veramente quello che sa fare meglio. Ai disegni non abbiamo più Derrick Robinson, ma abbiamo Russ Brown. Russ Brown che tra l'altro non ci fa sentire per niente la mancanza di quel mostro di Derrick Robinson, perché al suo tratto è davvero molto molto simile a quello di Robinson, di Robertson. Ha queste pose granitiche che non sono disegni per niente dinamici per essere un fumetto supereroistico, però ha queste espressioni esagerate e non si limita di certo nell'esplicitare le scene più violente e nell'esaltare la sceneggiatura di quel pasto di Annie. Se volevo tirarvi fuori un paio di scene un po' violente, dai, andiamo a vedere un po' di violenza. Cioè, a parte i volti, le espressioni sempre esagerate che mi piacciono sempre molto, alle scene anche più normali, poi passiamo alle scene più sopra le righe. arrivo, eh. Eccoci qua. Ho persa. Eccoci qui. Non ci risparmiamo nello spaccare la testa agli eroi e negli aprirli in due. Tra l'altro vediamo la femmina della specie che entra di papi e di pari dentro un super a caso. è veramente, veramente bello. Mi aspettavo un'operazione più che altro commerciale vista anche dopo l'uscita della serie e quant'altro. E invece è un volume che rispetta assolutamente la serie originale. Non mi sarebbe aspettato niente di meno in realtà però da Dagger Tennis e è veramente un gran bel ritorno nel mondo di The Boys. Sai che per la prima volta non sei d'accordo? Come mai? Io sinceramente l'ho trovato veramente super azzeccato. è chiaro che non si può avere la stessa cosa che c'era in The Boys ma non l'avrei voluta perché The Boys ormai era un capitolo già chiuso era un capitolo fatto finito e non avrei voluto qualcosa di così estremamente legato alla serie. Invece qua veniamo a vedere delle cose nel passato e delle cose nel futuro che sono una gradevole aggiunta con lo stesso mood di The Boys. Però fammi sapere anche perché non sei d'accordo perché questa cosa mi incuriosisce. Bene! Mi fa tempo mentre mi elabori la tua risposta io vado avanti. Vado avanti con un fumetto invece questa volta completamente diverso. Dopo 16 anni dall'assenza sulle scene fumettistiche torna Barry Windsor Smith con una graphic novel maestosa che è Mostri. Maestosa anche nel formato bellissimo pubblicato da Oscar Inc. Mostri. Nonostante di mostro ce ne sia effettivamente solo uno in questa serie il titolo è attenzione non ho questo uno non lo recupero la parola di The Boys secondo me non è una storia Beh certo l'amore estremizzato quando si va incontro a un amore interrotto in quel modo con un omicidio diventa poi ossessione però tutto nasce dalla storia d'amore se non ci fosse stato l'amore sconfinato che Bacher provava per Becky e lo vediamo benissimo in questo volume tra l'altro ti invito a leggerlo perché capisci proprio anche com'era il rapporto qui si vede la nascita del rapporto fra Becky e Bacher e capisci che amore profondo e perché c'era quell'amore profondo perché Becky aveva veramente cambiato tantissimo Bacher in come era fatto e Bacher quando lei viene a mancare sprofonda in un oblio torna a essere peggio di come era prima e diventa ossessione nella vendetta di vendicare Becky assolutamente assolutamente però secondo me è un'ossessione di un amore portato all'estremizzazione dicevo nonostante i mostri in mostri siano solo uno il titolo è mostri perché mostri ci mostra sotto il gioco di parole con tutti questi mostri quanto i mostri ancora siano un po' dappertutto siamo nel 1964 come protagonista abbiamo Bobby un ragazzo che ha poco da perdere ha una vita molto molto normale non ha più una famiglia non ha amici e decide di arruolarsi nell'Egetto degli Stati Uniti per essere emanato poi in guerra però purtroppo non è idoneo al servizio militare il sergente McFarland che è il sergente che gli fa l'intervista per poter arruolarsi vede però in lui un soggetto particolarmente attinente per un progetto segreto del quale anche lui non sa niente un progetto chiamato Progetto Prometheus individuato quindi questo elemento lo segnala ai suoi superiori il progetto Prometheus è un progetto che nasce viene preso dagli americani e rubato ai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è un progetto per creare un super soldato purtroppo però è un progetto incompleto e questo anche questo esperimento portato sulla pelle di Bobby lo porta a diventare un mostro a diventare un essere informe incapace di essere ormai riconosciuto come un essere umano incapace di comunicare e questo lo porterà ad essere braccato dallo stesso esercito che l'ha creato perché fuggirà dalla struttura detenzione del progetto Prometheus e verrà poi braccato dal dallo stesso esercito questo ci porterà a una storia che ci racconta la storia di due famiglie legate quella del sergente Max Falland e quella di Bobby di quando era piccolo dei loro genitori che erano legati in qualche modo dagli eventi della seconda guerra mondiale è proprio una storia che si suddivide in queste due epoche nel 64 e durante la seconda guerra mondiale in due periodi in due generazioni in due famiglie uniti tra loro però appunto in questa tragedia che è un'unica grande tragedia che si disloca lungo questo spazio temporale come vi dicevo Mostri ci racconta che i mostri non sono solo quelli che visivamente sono mostri come il nostro povero Bobby dopo l'operazione dopo l'esperimento ma i mostri si annidano un po' ovunque nei padri violenti in una società chiusa nella mente di chi non vuole credere al prossimo nei militari che considerano la vita umana usa e getta quindi ci sono tanti tipi di mostri in questa graphic novel è una storia sontuosa una storia che si dipana per l'appunto su tanti livelli ed è indubbiamente una graphic novel potente dalle tante tematiche e disegnata con questo stile esclusivamente inchina questo tratto graffiante che ricorda un po' le graphic novel di anni 80 e 90 ed è un tratto grafico assolutamente piacevole e molto molto realistico e che ci fa entrare al cento per cento in questa vicenda terribile terribile ma dove il mostro è il meno mostruoso perché ci saranno tante altre mostruosità in questa storia e il povero Bobby non sarà altro che una che una vittima che una vittima oh non avevo cambiato il titolo porca vacca oh mi dimentico sempre di fare questa cosa qui eccolo qui al numero 8 mostri scusate veramente una graphic novel bellissima messa al numero 8 perché come vi dicevo personalmente ci sono cose che mi hanno colpito molto di più ma questo non vuol dire che è un'ottima ottima ottima graphic novel se non sbaglio venne rifiutato lo plot narrativo dalla Marvel per le storie di Hulk sai che questa è un'informazione che non sapevo mi vado a documentare se è vera è una storia molto curiosa e sì ci può stare perché effettivamente è una storia non tanto cruda ma che va ad analizzare alcuni punti che per un fumetto Marvel specialmente per quanto riguarda il mattrattamento familiare ci sarebbe stato veramente pesante per una graphic novel o comunque una storia Marvel perché ci sono alcuni punti veramente molto pesanti nella famiglia specialmente di Bobby di quando era piccolo voltiamo completamente pagina cambiamo genere e al numero 7 abbiamo un fumetto completamente italiano e abbiamo Emma Wrong di quel buon tempone di Lorenzo Palloni e di Laura Guglielmo ai disegni non l'ho mai nascosto da quando questo volume è uscito Emma Wrong mi ha colpito al 100% una graphic novel scritta a livello di Palloni scrive una cosa in puro stile letterario di spy story quindi si vede che è un genere che a lui sta molto a cuore è un genere che conosce e ha studiato e qui applica tutto quello che lui conosce in una spy story con i controfiocchi e dall'altro lato Palloni è sempre molto bravo molto furbo ed intelligente nel scegliere i disegnatori quando non è lui stesso a disegnare e qua va a scegliere una Laura Guglielmo impressionante che fa uno studio grafico dopo vi mostrerò uno studio grafico uno studio anche sulla tavolossa di colori da utilizzare in questo in questo fumetto un lavoro incredibile siamo nel 1951 pochi giorni dal primo test nucleare sul suolo americano in Nevada c'è un palco scenico d'eccezione anzi sono dei posti in prima fila d'eccezione a questo spettacolo atomico ovvero l'Hot Rock Hotel questo è il nostro palco scenico dove si svolgerà la nostra storia la storia ha come protagonista Emma Wong che è una donna diventata spia per amore una donna che per inseguire l'amore della sua vita Michael che è una delle più famose spie famose nel senso non può essere famoso perché è una spia ma riconosciuta nell'ambiente una delle spie migliori che esistono al mondo che ha dovuto abbandonarla per perseguire per l'appunto nella sua carriera arrivando anche a cambiare volto perché capita succede nel mondo dell'espionaggio che una spia debba cambiare volto per questo la missione di Emma sembra praticamente impossibile ritrovare quest'uomo che l'ha abbandonata anni e anni fa e che lei non ha abbandonato invece il sentimento che prova per lui e l'amore che prova per lui questo lo porta a diventare a lei stessa una spia e a entrare in questo mondo da totale amatrice se vogliamo dire non ha un addestramento non ha nulla si è formata da sola e sta entrando in un ambiente molto molto pericoloso ma è diventata anche lei una riconosciuta nell'ambiente cioè la gente sa chi è e conosce la sua storia Emma sembra al termine del suo percorso quando arriva all'Otrocomotel perché voci dicono che Michael sarebbe lì lì trova diverse altre persone a corse all'Otrocomotel per l'evento della bomba atomica che sarà lì da lì a pochi giorni e quello che succederà all'Otrocomotel sarà un finale assolutamente tarantiniano ci sarà dopo una prima parte di world building se vogliamo dire di costruzione della tensione abbiamo poi uno strappo completo verso metà e da lì una caduta libera degli eventi che partono in maniera sfrenata e si si mobilitano una serie di trappole una serie di plot twist uno dietro l'altro ad una velocità frenetica come dicevo è un volume che rispetta omaggia e sfrutta appieno i canoni letterari della spy story e dall'altro lato come vi dicevo prima abbiamo Laura Guglielmo che confeziona tavole del genere abbiamo una Laura Guglielmo in stato di grazia con queste tonalità sempre molto calde che con questa non mi viene il termine dualismo di colori caldi e freddi con sempre la stessa tavolosta che si alterna per tutta la storia abbiamo questi tutto tra l'altro è super azdeccato perché tutto sembra dipinto dal colore di un tramonto nel deserto del Nevada per l'appunto e dall'altro lato abbiamo anche delle di tutto bravo ma oggi Friki è un drago nella terminologia guardate che tavole riesce a fare Laura scusate non riguarda bene a livello artistico è un fumetto veramente eccezionale e a livello narrativo altrettanto io ero rimasto veramente super colpito già da appena l'avevo già detto che questo qua sarebbe stato uno dei fumetti migliori del 2021 e infatti Emma Vrong lo metto proprio alla settima posizione della classifica non mi fa ricordare io Pippo Friki che è meglio va là non mi ci fa pensare per favore andiamo avanti andiamo avanti rimaniamo un po' sul genere un po' sul genere se vogliamo un po' pulp di quei tempi e andiamo per l'appunto con la sesta posizione che è proprio pulp di Ed Brubaker e Sean Phillips sono ero francamente indeciso su cosa mettere di Ed Brubaker e Sean Phillips perché qualsiasi cosa che loro fanno è qualcosa di eccezionale ho scelto pulp perché mi ha colpito in particolar modo per un aspetto che dopo vi andrò a raccontare siamo negli anni 30 a New York il nostro protagonista è Max che è uno scrittore di racconti pulp per l'appunto le riviste pulp erano riviste che prendevano il loro nome dal tipo di carta sul quale erano stampate erano riviste economiche che raccontavano di storie per l'appunto del far west che andavano molto di moda ai quei tempi però gli anni 30 sono anche un periodo in cui le riviste pulp stavano andando decadendo stavano andando erano sempre meno famose questo va a influire sulla vita di Max che è per l'appunto uno scrittore di questi racconti che parlano del selvaggio west e la vita di Max proprio per questo per questo grande calo della popolarità delle riviste pulp sta andando sempre più la deriva ma non solo Max ha anche delle grosse problematiche di salute lo vedremo lungo lungo la storia avere ben più di un infarto verrà rapinato il giorno di una giorno di paga di diverse storie che aveva scritto quindi ha anche delle difficoltà economiche che vengono sia da quanto le riviste pulp le riviste pulp erano famose anche per una cosa pagavano pochissimo i loro scrittori e il poveretto viene rapinato proprio durante un giorno in cui viene pagato già poco diverse storie che aveva scritto questo lo portano verso una vecchia strada perché qui arriva la parte che mi ha sorpreso della quale non avevo mai pensato ovvero il passato di Max è quello da cui lui trae ispirazione per le sue storie del far west perché gli anni 30 poco prima in realtà qualche decina d'anni prima degli anni 30 era un periodo in cui una realtà moderna come come New York era viveva allo stesso tempo negli Stati Uniti nella stessa realtà del far west cioè quindi nella stessa realtà del selvaggio west dove accadevano quelle cose che sappiamo dove la violenza all'ordine in tutti i giorni dove gli uomini si facevano giustizia da soli con le pistole insomma erano due realtà completamente diverse la realtà degli assalti alle diligenze degli assalti ai treni degli uomini che si muovevano a cavallo e dall'altro lato c'era New York bene Max lo vediamo ora un normale scrittore a New York ma nel suo passato era uno di questi banditi faceva parte di un gruppo di banditi e trae da questo suo passato ispirazione per questi racconti questo passato ritornerà quando proprio nella sua vita sarà al minimo storico e quando lui ormai vecchio sta pensando che non ha un'assicurazione per il futuro non ha la sicurezza di poter vivere il suo futuro la sua vecchiaia in pace con una sua casa un suo giardino insomma un futuro che pensa lui di essersi meritato e lo porterà per l'appunto a tornare a fare quello che sapeva fare benissimo in passato questo lo farà incontrare con una vecchia conoscenza che ai tempi del far west era un suo antagonista perché era un uomo che faceva parte della Pinkerton la Pinkerton era un'agenzia di sicurezza americana diventata tra le agenzie di sicurezza più importanti in America perché erano quelle che gestivano per appunto l'ordine e le indagini nel west si incontreranno questi due e troveranno un amico comune perché negli anni 30 stanno arrivando i nazisti sta arrivando la seconda guerra mondiale e in questi due loro troveranno un obiettivo comune troveranno sia per Maxo un modo per assicurarsi un futuro sia per questa sua vecchia conoscenza di vendicarsi in qualche modo su un torto che ci sarà che non vi spiego perché non voglio fare mai spoiler e come sempre come nei migliori nelle migliori storie noir nelle migliori storie pulp le cose non andranno di certo per il migliore delle vie per il migliore delle strade e andranno sempre verso un finale necessario un finale che non è quasi mai un lieto fine e in questo Ed Burbaker è un mostro dall'altro lato ragazzi inutile che continuo a spendere parole su Sean Phillips che è sempre qualcosa di insomma è un team creativo che non ne sbaglia una Sean Phillips continua ad avere questo suo tratto molto realistico dove le ombre la fanno da padrone dove i volti sono riconoscibili e caratterizzati alla all'ennesima potenza in più qui abbiamo perché Sean Phillips aggiunge sempre delle particolarità nelle sue storie a seconda di cosa andiamo a trattare qui abbiamo questo bellissimo effetto questa filigrana molto bella che va a ricoprire le scene ambientate nel west e nel passato di Max che danno appunto questa atmosfera rovinata questa atmosfera un po' bruciacchiata un po' come le foto un po' come delle foto bruciate e ha vinto anche l'Eisner come miglior storia miglior graphic novel non mi ricordo più una roba del genere comunque ha vinto anche un Eisner nel 2021 e al numero 6 assolutamente palpa ero molto 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 indeciso se inserire questo o inserire reckless ma reckless è sì un volume unico ma fa parte in realtà di una serie di graphic novel quindi non lo so e comunque mi erano piaciuti entrambi allo stesso modo quindi ho detto ok prendo palpa perché questa mi ha fatto proprio ragionare su questa cosa di questa convivenza tra un mondo molto più vicino a noi molto più moderno di New York e quello molto più selvaggio del lontano West e quindi questa cosa come degli uomini che prima facevano i fuorilegge nel West potessero poi diventare magari scrittori a New York è una cosa che mi ha assolutamente sorpreso e ho trovato un esperiente narrativo veramente molto interessante siamo a metà classifica numero 5 abbiamo un altro volume che già da subito avevo detto che mi era piaciuto veramente molto ma che a maggior ragione l'ho inserito un po' a forza nella classifica devo essere sincero ma è a tutti gli effetti un volume unico ma è uno spin off ed è uno spin off del mondo di Black Hammer del mondo di Jeff Lemire di Black Hammer ed è il dottore Andromeda e il regno dei domani perduti graphic novel come dicevo in realtà spin off volume unico che va ad ampliare ancora come quarto uno due tre quarto esatto spin off del mondo di Black Hammer ed è sicuramente per quanto mi riguarda il migliore tra gli spin off di Black Hammer è anche uno dei migliori prodotti di quell'universo narrativo creato da Jeff Lemire ai disegni qui abbiamo quasi sempre Jeff Lemire che scrive queste storie ai disegni qui abbiamo Max Fiumara che fa un lavoro eccezionale come sempre colorato da David Stewart che non è neanche da dire è il miglior colorista di Hollywood della scena americana quindi niente da dire su lui in il dottor Andromeda scopriamo per l'appunto la genesi e anche il purtroppo l'epilogo di questo personaggio che è l'autor Andromeda che è lo scopritore e supereroe legato alla parazona un un espediente narrativo un luogo un un deus es machina molto molto importante per il mondo di Black Hammer la la il dottor Andromeda dedicherà la sua vita a scoprire la parazona e a sfruttarne i poteri peccato che questo suo superpotere sarà anche la sua supercondanna il suo superproblema perché ogni volta che passerà del tempo nella parazona il tempo sulla terra scorre in maniera diversa questo lo porterà involontariamente dovuto alla sua mania alla sua incontenibile voglia di di studiare i segreti della parazona a trascurare la sua famiglia e soprattutto suo figlio con il quale si ricongiungerà solamente quando il figlio sarà sul letto d'ospedale in fin di vita e dove proprio lì sarà l'occasione nella quale il dottore racconterà la sua storia a noi e a suo figlio e ci mostrerà una storia fatta di da una parte avventure esaltanti una parte puramente supereroistica e dall'altra parte la realtà terribile che si è che si è costruito dottor Andromeda dedicando interamente la sua vita al suo lavoro e alla parazona come Jeff Lemire continua a confermare per l'ennesima volta come sia la sua capacità di umanizzare i personaggi di creare storie che siano sia avventure che spaccati di vita spesso sono questi spaccati drammatici e anche emozionalmente intensi sono dei momenti qua ragazzi veramente veramente intensi bilancia la perfezione la narrazione e crea un racconto che è completo in tutte le sue forme emozionante in certe parti e esaltante in molti altri Max Fiumara in questo gli sta dietro e confeziona due serie di disegni completamente diversi da un lato abbiamo uno stile supereroistico molto simile al comic don americano al fumetto mainstream americano qua vediamo una scena che potrebbe essere uscita tranquillamente che in realtà prende anche molto spunto dalle lanterne verdi e dall'altro lato cambia completamente tonalità cambia completamente stile di disegno quando torniamo nella realtà e torniamo in quel letto d'ospedale dove il dottor Andromeda racconta la sua vita a suo figlio slava i colori accentua ogni singola ruga sul volto di un ormai attempato dottor Andromeda e diventa riesce ad amplificare in qualche modo questa parte più drammatica di questa storia Jeff Lemire continua nel suo progetto di rielaborare i diktat del mondo supereroistico a suo modo amplificandone le potenzialità ma mostrandone i lati più oscuri e qui fa proprio quello che Marvel ha sempre fatto prende un superpotere lo trasforma in un superproblema e ne mostra per appunto il dualismo di queste due facciate è un volume veramente veramente bello vi consiglio se non l'avete letto di recuperare assolutamente tutto il mondo di Black Hammer che si struttura in tre volumi di saga diciamo originari e poi abbiamo per l'appunto quattro in espansione volumi di spin off abbiamo anche un crossover fra il mondo di Black Hammer e quello della Justice League che sembrava un'operazione molto commerciale e invece devo dire che anche quello è stato un volume decisamente inaspettato che ovviamente punta un po' più al mondo supereroistico ma che anche lì Jeff Lemire riesce a metterci il suo stampino e a creare qualcosa di un po' diverso con la Justice League che di solito è molto marmorea nei suoi canoni veramente veramente molto bello dottor Andromeda sorsino di acqua a metà classifica e andiamo con una storia della quale non vi ho mai parlato che ho letto proprio alla fine 2021 del quale in questi giorni farò un video e che è entrato proprio a sfrombattuto in questa classifica Gerard Way io lo amo profondamente e l'ho amato ancora di più è ormai una conferma con cambio grafica i fabolosi Killjoys inno nazionale ancora prima di questo fumetto la storia che ci sta dietro è qualcosa di veramente veramente bello qui alla scrittura non abbiamo allora innanzitutto Gerard Way se non lo conoscete ex cantante dei My Chemical Romance diventato poi di fumettista ha scritto tra le migliori run di casa di casa Young Animal diventato poi anche il curatore dell'etichetta Young Animal di DC Comic ha scritto tra le migliori run di Dumpato dopo quella di Graham Morrison ha scritto diverse storie veramente molto interessanti che vanno sempre a prendere supereroi un po' sconosciuti e ne modifica ne va a coprire alcuni buchi nella storia sviluppando completamente nuove storie qui invece abbiamo proprio un'idea sua sua ma non solo sua anche di un suo amico che è Sean Simon un'idea che inizialmente era completamente diversa da quella di Inno Nazionale infatti l'inizio di quella idea l'idea originale dei Killjoys la vedete in due video musicali dei My Chemical Romance in Nananana Nananana non mi ricordo credo che sia quello il titolo non mi ricordo quanti Nanaha e l'altro è Sing in questi due video musicali voi vedete che si si crea una storia e si prosegue questa storia e quella storia viene terminata poi doveva essere terminata con un terzo videoclip ma invece è stata terminata in questo volume uscito sempre nel 2021 ok e qui si termina la prima la prima stesura dei famolosi Killjoys poi però quell'idea partorita inizialmente per un fumetto che poi è stata adattata a quei video musicali quando è stata adattata ai video musicali era già mutata perché in quei tempi c'era Gerard Way era diventato affine a Graham Morrison tra l'altro Graham Morrison che troviamo anche nel video dei My Chemical Romance e aveva letto Invisible e qua dentro si vede proprio che Graham Morrison e Invisible lo hanno segnato profondamente perché nella nuova riscrittura dei favolosi Killjoys troviamo tanto di Invisible troviamo una storia completamente diversa rispetto a quella che è scusate una storia completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto per l'appunto in questa trilogia formata da due video musicali e questo fumetto in Inno Nazionale vediamo una guerra segreta combattuta da gruppi di ragazzi che riescono in qualche modo a vedere oltre il velo della realtà e vedere queste creature che si insinuano tra noi creature che sono la personificazione dei malesseri dell'uomo dei lati più bui dell'uomo però sono anche diciamo esseri un po' digitali ok se avete letto Invisible forse riuscirete a capire meglio di quello che vi sto raccontando altrimenti forse può risultare un po' astratto come concetto ma deve essere astratto perché è quello che vuole Gerald Way ed è quello che che ha fatto anche per l'appunto Graham Morrison in Invisible i nostri Killjoys sono parte di questi gruppi di ragazzi che combattono queste ombre nell'oscurità e e sono questo gruppo variopinti di eroi possiamo chiamarlo che in seguito a una grossa enorme battaglia contro queste ombre si ritrovano a non ricordarsi più niente ci ritroviamo con Mike Milligan che è appunto il nostro protagonista su un divano a guardare la tv che non ricorda assolutamente questo passato non ricorda questa guerra questo mondo sovrannaturale queste dimensioni che collimano anche se ogni tanto nella sua vita triste ormai di ogni giorno governata dalle ore passate sul divano a guardare la televisione ogni tanto c'è qualche flash qualche qualche essere che gli appare davanti agli occhi che risulta quasi essere una una visione un un miraggio fino a che Milligan non capisce che in realtà è la tv che gli sta facendo dimenticare è la tv che gli sta facendo il lavaggio del cervello quindi da lì distrugge questi canoni della società che lo tengono legato e senza memoria riscopre la sua vecchia macchina che era un'icona per i killjoys e decide di andare a recuperare e risvegliare eccolo qua indossa la sua maschera e decide di andare a recuperare e risvegliare il restante dei killjoys e a continuare a terminare quella guerra che avevano iniziato è un'avventura sfrenata psicotica caustica degna veramente del miglior Graham Morrison e dall'altro lato abbiamo i disegni di Leonardo Romero che sono qualcosa di elettrizzante sono iper colorati con questo tratto volutamente a volte non curato un po' che rimanda al fumetto americano che è qualcosa di esaltante questi colori molto fluorescenti quasi per appunto digitali cioè sono digitali in realtà però digitali nel senso che sembrano appartenenti a una realtà digitale non stampati su carta ci portano in questo mondo una via di mezzo fra la realtà e un'altra dimensione e sono a livello grafico qualcosa di veramente divertente e per l'appunto esaltante una storia che mi ha proprio riportato a invisible che io amo particolarmente e mi ha dimostrato ancora una volta come Gerald Way abbia trovato in Graham Morrison un mentore come sia stato capace di assorbire veramente il meglio di questo di quest'uomo di questo grande creatore di fumetti forse non arrivando agli estremi che arriva Graham Morrison perché Graham Morrison arriva veramente a dei livelli di passatevi in termini malattia mentale fuori misura Graham Morrison dentro la sua mente ha delle cose che noi umani non possiamo minimamente concepire Gerard Way ne ha carpito alcuni di questi mondi che sono all'interno del cervello di Graham Morrison e riesce a farli suoi in maniera eccezionale lo ha già dimostrato diventando il degno erede della Doom Patrol e qua lo dimostra ancora un'altra volta veramente veramente bello io vi consiglio di guardarvi i due video di My Chemical Romance leggervi i favolosi Killjoys California che va a concludere quella trilogia e poi di leggervi in non nazionale non volete leggere tutta questa roba qui prendetevi solo in non nazionale perché già da solo non è un seguito non è ha dei collegamenti a questa storia ma sono collegamenti che apprezzerete se avete letto il resto altrimenti non è un problema ma già da solo vale assolutamente la pena e è un fumetto che mi ha colpito fondamentalmente che non lo conoscevo l'ho trovato per caso e mi ha aperto mi è stato un fulmine al cielo sereno e mi ha aperto questo mondo dei Killjoys che spero tra l'altro che Gerald Way affronterà ancora perché è un universo narrativo che ha ancora tanto da raccontare secondo me proprio esattamente come Invisible che ha tanto tanto al suo interno ultime quattro posizioni ci avviciniamo al podio però siamo già un'oretta piccolo drink andiamo con un genere completamente diverso un fumetto d'esordio di un autore francese e andiamo con PTSD di Guillaume Singlen Singelin è francese non so bene come si pronunci questo titolo pubblicato da Edizioni BD PTSD come dice nel titolo va ad affrontare in maniera molto particolare il disturbo da stress post-traumatico il disturbo che va ad affliggere molto spesso i militari che tornano da una guerra ed è proprio quello che affronta la nostra protagonista in un mondo un po' diverso dal nostro siamo in un futuro un po' vicino al nostro dove Jun questa ragazza che vedete in copertina è appena tornata a reduce da una guerra mal vista dal popolo e dal in generale dal suo stato tornata dalla guerra è stata completamente abbandonata dalle istituzioni mal vista per l'appunto anche dalla dalla gente vive in strada e si imbottisce di farmaci che sono l'unica cosa in grado di fermare le sue visioni è in grado di placare il dolore sia fisico che psicologico portato dalla guerra che non l'ha mai abbandonata questo la porta a isolarsi a chiudersi completamente dal resto del mondo a vivere nella sua sofferenza fino a quando non incontra una ragazza leona che è una ragazza madre proprietaria nello stesso tempo di un ristorante qui vediamo un momento nel quale si incontrano che è per l'appunto la prima persona da quando lei è tornata dal fronte a dedicargli un attimo di attenzione a dargli qualcosa di buono questo insieme a alcune vicende che succederanno tra queste due persone e le gang criminali che in città comandano soprattutto il traffico del farmaco che Jun utilizza per placare il suo cervello e le sue memorie porteranno Jun a crearsi e a combattere una nuova guerra perché questi farmaci si l'aiutano a sopportare meglio il dolore ma dall'altro lato lei e quelli come lei diventano succubi e diventano zombie per colpa di questo farmaco si isolano diventano catatonici per colpa di questo farmaco ed è una situazione che dalla quale lei vuole uscire dalla quale tutti gli altri che sono nella stessa posizione devono uscirne e per questo l'unica cosa da fare è eliminare dalle strade quel farmaco che è come una droga questo per l'appunto porterà riporterà la guerra nella vita di June ma sarà una guerra che forse la porterà a lasciarsi dietro tutte le guerre è una storia che affronta per appunto questo disturbo da stress post-traumatico in maniera approfondita ma non pesante è un racconto di rinascita molto doloroso violento e tutto disegnato con questo stile molto bello ibrido un po' tra fumetto francese e fumetto giapponese dove dal fumetto giapponese prende per l'appunto anche un po' la distorsione dei volti questi grandi occhioni dal fumetto francese prende la quantità di elementi nella tavola la quantità di dettagli e la qualità di dettaglio nella tavola che sono sempre pieni ricche questa città che è viva e vibrante e dall'altro lato abbiamo scene di guerra violente e impressionanti che non la lasciano di certo raccontare la guerra ma la mostrano in tutto e per tutto un fumetto molto molto intenso un disegno questo dettaglio questo disegno che tra l'altro a colpo d'occhio può sembrare imperfetto ma è volutamente così proprio c'è anche questi colori che vediamo lasciano piccoli spasti bianchi è fatto parte di questo colpo d'occhio che secondo me è veramente molto molto riuscito e riesce un po' a smorzare le tematiche molto importanti che vengono trattate in questo fumetto è un fumetto che mi ha fatto ragionare mi ha colpito fa molto pensare su questo problema che affligge tuttora moltissime persone che tornano dalla guerra ma non solo moltissime persone in generale e lo affronta in maniera non pesante con questa storia che ha quasi un po' l'aura da fantasy ma non ha nulla di fantastico però questa città che Guillaume tratteggia è una città un po' un po' fantascientifica ma in realtà normalissima però quest'aura data dai suoi disegni ha quest'aura un po' fantascientifica fantastica che riescono in qualche modo a smorzare ma non a sminuire un discorso così importante affrontato sulle pagine di un fumetto questo era lo scalino il primo scalino del podio non ho fatto ruolo di tamburi stavolta vabbè il primo scalino del nostro podio il piccolino più basso ed è veramente un volume molto molto bello andiamo con la seconda posizione del podio su un altro volume arrivato in Italia senza tante fanfare ma che è qualcosa di visivamente incredibile e che allo stesso tempo come come PTSD affronta una tematica molto molto pesante al secondo posto ho messo Carmen anche qui abbiamo un francese Guillaume March un altro fumetto veramente molto molto tosto da leggere Carmen è la nostra protagonista che vediamo per l'appunto qui in copertina rappresentata come questo scheletto perché Carmen è una entità addetta a prelevare le anime dei defunti in realtà è una delle entità che fanno questo mestiere c'è tutta un'organizzazione nel mondo dell'aldilà di queste persone chiamiamole così di questi esseri che sono addetti a trasportare le anime dei defunti a guidarle verso l'aldilà solo che Carmen a differenza delle sue colleghe lo fa in maniera completamente diversa perché non si limita solo ad arrivare sul luogo in cui una persona è morta a prelevarne l'anime e a porterà nell'aldilà ma sfrutta tutto il tempo possibile che hanno a disposizione quel piccolo momento dove la persona vede la luce del tunnel ma prima ancora di arrivarci lei lo sfrutta per conoscere questa persona per capirla per capire che cosa l'ha portato e per approfondire la sua conoscenza sull'animo umano dando dando così anche alcuni ultimi attimi di gioia alle anime dei defunti le sue colleghe reputano che questa cosa che lei fa sia assolutamente inutile sia uno spreco di tempo non è il suo parere questo è quello che fa anche con Cara una ragazza che scopriremo subito si è appena suicidata solo che lei ancora non lo sa vediamo qui il primo il primo contatto fa Carmen e Cara Carmen gli fascia subito i polsi la vediamo in una vasca da bagno inutile raccontare di cosa Cara ha appena fatto prima di portarla nell'aldilà Carmen fa rivivere a Cara alcuni momenti della sua vita cerca di studiare con lei cerca di rivivere con lei tutti i fatti che possano aver portato a questa decisione a farla ragionare su questa decisione e a farla ragionare sulle sue conseguenze perché parliamo anche molto delle conseguenze di un suicidio per chi rimane non solo per chi se ne va ed è ovviamente una storia molto molto emozionante decisamente drammatica dove vediamo degli aspetti della morte inediti sinceramente degli aspetti approfondire degli aspetti delle vite di persone appena defunte con le loro storie molto molto particolari per quale motivo perché Carmen scusa Cara quando tocca una persona ancora in vita riesce a vederne tutta la storia di quella persona e quindi riesce a vedere tutta la vita di una persona anche nel momento che sta che proprio poco prima che questa persona stia per morire e questo succede alcune volte lungo queste ore che Carmen passa con Cara e questo ci dà altri specchi sulla vita e la morte delle persone su altre storie altro punto enorme di questo fumetto sono i disegni di Guillem March che sono bellissimi sono questi enormi disegni dal lampo respiro spesso sviluppati in tavole molto grandi anche in splash page doppie splash siamo arrivati dopo un po' doppie splash page di una bellezza incredibile con queste geometrie un po' deformi queste riprese grandangolari che ci mostrano degli scorci di Palma di Mallorca bellissimi e dall'altro lato abbiamo una vi mostro gli scorci di Palma di Mallorca perché sono veramente una cosa di eccezionale eccezionale e dall'altro lato abbiamo una visione sul mondo dell'aldilà quanto meno particolare fatta di geometrie fatta di di geometrie impossibili vi faccio vedere molto molto bello molto creativa lo sviluppo anche del mondo dell'aldilà fatto di appunto questa gerarchia di di persone atte a lo vedete in questa pagina qui atte a portare le anime nel mondo dei morti è un fumetto molto bello emozionante mai pesante nonostante tratti la tematica del del suicidio e soprattutto delle conseguenze del suicidio su chi se ne va ma soprattutto su chi rimane sul tramonto della della vita tra l'altro è molto bello come tutti questi tutti i disegni siano in questa aura rossa arancione rosina che sembra proprio il tramonto sulla vita quindi la vita che tramonta cioè la morte e quindi un racconto che parla di vita e di morte un fumetto eccezionale veramente veramente molto bello anche questo un recupero necessario del 2021 che ho messo tra i volumi unici alla seconda posizione siamo arrivati alla prima posizione molto combattuta devo dire ho pensato un bel po' tra le prime due posizioni che metto praticamente a pari merito in prima posizione tra i migliori in questo caso lo posso dire tra le migliori graphic novel perché abbiamo una graphic novel come posizione numero uno abbiamo pens e le piaghe del mondo di jeremy moro ragazzi qui abbiamo di fronte un penso di non sprecare il termine un vero capolavoro jeremy moro che abbiamo già visto nei suoi splendidi paesaggi di morte bianca no purtroppo no che abbiamo già visto nei suoi splendidi paesaggi dell'islanda in la saga di grimmer qui torna con altri tanti splendidi paesaggi raccontandoci di una umanità agli albori un'umanità ancora divisa in clan che sono fondamentalmente grandi famiglie allargate nomadi che non fanno altro che spostarsi da un posto all'altro alla ricerca di risorse di cibo per poi una volta esaurite spostarsi nuovamente e così via consumano si spostano consumano si spostano un meccanismo che però sta portando alla fine dell'umanità perché gli inverni sono un enorme ostacolo per questo meccanismo gli inverni sono in inverno diventa impossibile spostarsi per colpa del freddo e del gelo lo stesso freddo che porta anche alla morte delle persone e che porta alle morte degli animali quei pochi animali che sono ancora all'aperto muoiono e gli altri sono in letargo la natura è morta non ci sono frutti non ci sono piantagioni non c'è nulla e l'umanità ancora come dicevo si nutre di quello che trova di caccia principalmente e pens il nostro protagonista invece è un protagonista è un uomo anomalo nel suo clan non va a caccia non provvede in nessun modo al sostentamento della tribù quello che fa lui è soffermarsi a osservare quelle che lui chiama le piaghe del mondo le pieghe del mondo a interrogarsi su come il mondo funzioni a interrogarsi se ci sia un modo migliore di vivere esattamente esattamente fondamentalmente quello che ci stavo poi arrivando si sta interrogando si interroga su come il mondo funzioni su come la natura funzioni e questo suo pensiero lo porterà niente proprio di meno che a scoprire l'agricoltura non solo per lui questa questa cosa diventerà quasi un'ossessione diventerà l'unica ragione di vita che lo porterà anche a isolarsi dal suo clan il suo clan che in realtà questa cosa scusate mi dimenticavo di dire una cosa molto importante il suo percorso inizia già aveva 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 già delle cose nella sua mente delle visioni delle idee nella sua mente ma c'è un punto che non è spoiler perché è abbastanza visto del volume dove lui dove il suo clan si riduce esclusivamente a lui e alla sua anziana madre e lui è costretto a sopravvivere un inverno a nutrirsi del cadavere defunto di sua madre questo fa scattare decisamente la molla nelle sue ricerche e inizia quindi a cercare di capire perché ci sono i fiori che cosa porta il fiore a nascere che cosa sono i semi all'interno del fiore iniziano così gli esperimenti questi si alterneranno lui così troverà una nuova tribù farà i conti con le stagioni farà i conti con gli imprevisti che questo porta farà i conti con la nuova tribù con la quale si ritroverà a vivere che vede in questa sua ossessione una perdita completa di tempo ed è una storia romanzata una poesia su come è nata l'agricoltura veramente eccezionale dall'altro lato come vi dicevo abbiamo i dipinti di Jeremy Moreau che se dico che sono incredibili dico poco ci spiega veramente le pieghe del mondo ci mostra una natura selvaggia incontaminata bellissima ci mostra le meraviglie della scoperta dell'agricoltura della coltivazione ci mostra le meraviglie di un mondo ancora selvaggio e inesplorato dove l'umano ancora è succube della natura devi ancora capire come guardate questa tavola per quanto basica come ci mostra proprio lo scorrere del tempo e dall'altro lato il tempo che tutti gli effetti è immutato le montagne che sono immutevoli alla vista ma che in realtà ogni secondo cambiano ragazzi potrei mostrarvi ogni tavola di questo fumetto perché è incredibile quello che riesce a fare con i disegni Jeremy Moreau ce l'aveva ripeto già mostrato nella saga di Grimmer ma qua ancora riesce a migliorare ed è una storia veramente molto bella che si alterna anche a un po' quelle che erano le credenze dell'epoca di quel del mondo degli umani di quell'epoca vediamo un po' del mondo spirituale delle pitture rupestri quindi c'è anche un po' una parte più onirica di questa di questa storia dell'umanità incredibile se la giocava molto con con Carmen ma la vastità di questo racconto mi ha fatto sì di metterlo al primo posto fa i volumi unici del 2021 e questa era la prima posizione pens e le pieghe delle pieghe del mondo di Jeremy Moreau non è finita qui perché c'è una menzione d'onore non l'ho inserita in classifica perché nonostante all'interno abbia un team creativo dello struttore cosa mi consigli assolutamente la saga di Grimor assolutamente dicevo nonostante il team creativo sia composto principalmente da fumettisti non l'ho inserito nella classifica perché a tutti gli effetti non è un fumetto ma parla comunque del mondo del fumetto e fa parte del mondo dei fumetti come menzione speciale ho messo l'altra storia dell'universo DC di John Ridley e agli disegni Giuseppe Camuncoli e Andrea Cucchi John Ridley che forse come noi può tornarvi perché è tra gli altri il regista di 12 anni schiavo e qui torna ad affrontare il seppur nell'universo DC la problematica della diversità della disparità di genere della diversità delle minoranze etniche fondamentalmente nell'altro stato dell'universo DC vediamo ripercorriamo per l'appunto la storia dell'universo DC parallelamente la vediamo nella storia americana proseguire con la storia americana attraverso gli occhi di 5 supereroi minori minori nel senso che hanno avuto molto meno spazio rispetto magari al pantheon della justice league nella storia editoriale della DC comics tutti eroi caratterizzati dal fatto di appartenere per l'appunto a una minoranza etnica così che abbiamo Jefferson Pierce che è black lightning abbiamo sua figlia abbiamo malduncan il pugile abbiamo karen becker che diventerà bumblebee abbiamo Tatsu Yamashiro che è katana abbiamo René Montoya che è la poliziotta del distrito di Gotham che vediamo anche tra l'altro in Gotham Central tutte per l'appunto persone appartenenti a minoranze etniche americane che ci raccontano l'involuto magari ma il lieve razzismo dell'America dell'America no del fumetto DC del fumetto mainstream americano della sua storia di come ha trattato proprio come minoranza questi eroi e eh sì no invece è molto molto bello e lo fa in maniera incredibile cioè ci fa proprio ragionare come il fumetto americano mainstream eh fosse avesse delle regole particolari per determinati tipi di eroi e lavorasse qui in un altro modo e trattasse invece in un altro modo altri tipi di eroi eh il tutto tra l'altro dicevo non l'ho messo perché non è un fumetto ma è strutturato a a romanzo illustrato ok e il tutto è disegnato da Giuseppe Camuncoli ed Andrea Cucchi che rappresentano queste questa ripercorrono gli eventi che hanno fondato la storia editoriale di sì li rielaborano anche il loro modo li rielaborano in uno stile che però ricalca molto il lo stile classico della della golden age della silver age del fumetto americano e fa veramente ragionare da un punto di vista in realtà cinque punti di vista inediti sulla storia di Troy DC e sulla storia americana aprendoci gli occhi sulla visione di delle persone di colore o delle persone non so mai come bisogna dire ora dei neri non lo so io dico i neri perché di colore non va bene credo che nero possa andare bene ma anche dei cinesi degli asiatici che erano anche allo stesso tempo mal visti per le diverse guerre che c'erano state nel mondo diversi punti di vista della loro vita non si è pensato come di Frankie di diversi loro punti di vista come supereroi e come abitanti dell'america di quegli anni un volume veramente molto bello sia dal punto di vista grafico non si può dire niente a nostro camo fa sempre un lavoro eccezionale ma innovativo e che ci mostra un punto di vista in edito sulla storia di Torale DC che consiglio assolutamente non è un fumetto è sicuramente più verboso di un fumetto è una lettura più lenta ma è molto più riflessiva ma non per questo più noiosa o o meno di spessore anzi per l'appunto ci fa vedere mantiene comunque quella sua aura supereroistica perché vediamo delle tavole veramente molto molto belle del mondo DC però dall'altro lato si vede che John Ridley per l'appunto appartenente alla popolazione nera americana e afroamericana e conosce molto bene la sua storia e il suo passato menzione speciale che secondo me era di diritto perché comunque in classifica questo volume si doveva finire non l'ho messo per dare più spazio ai fumetti perché questo per l'appunto è un romanzo illustrato ma di sicuro è tra le migliori pubblicazioni di panini dell'anno scorso bene ragazzi vai frankie vai pure dimmi pure fammi pure delle domande tanto possiamo andare avanti tranquillamente prima bevo però perché se no togliamo la menzione speciale eccoci qua possiamo anche giocare non è che no no scherzo cioè in realtà sono già pronto per giocare io dopo stasera mi prendo un po' di relax dalle letture e vado un po' di gioco allora volevo sapere se con te ha ancora senso acquistare storie in formato bonellide io non ho mai acquistato storie in formato bonellide devo essere sincero è un formato che non mi è mai piaciuto un formato che credo che renda renda il tutto datato nel senso prendi per te che ti rompo giù la fotocamera che è molto su tutto un po' datato è un formato che non mi piace per niente già non mi piacciono gli spillati i bonellidi mi piacciono ancora meno ho preso alcune serie per forza di cose in bonellide tipo orfani tipo di salda press volt ma basta sono gli unici due bonellidi che io ho in casa non ho nient'altro piuttosto gli spillati ma ancora meno in realtà ho pochissima roba anche di spillato io sono molto fan dei bei volumi devo essere sincero come vedi mi piacciono i cartonati mi piacciono i volumoni se si rimane dentro certi limiti sono senza ombra di dubbio ecco per l'appunto un ottimo modo economico per recuperare alcune storie in un mondo come ora che ha visto l'aumento di gli spillati a prezzi spesso esagerati il bonellidi è rimasta la vera soluzione economica da edicola per recuperare alcune storie vediamo per esempio le storie integrali di marvel che vediamo gli x-men di claremont c'è daredevil c'è spider-man c'è thor per appunto green lantern quindi quello sicuramente se uno dice ma mi voglio cavare la curiosità di queste letture ma spendendoci il meno possibile ma tanto non mi interesso assolutamente del formato non sono un collezionista benvenga benvenga questo può essere un volume anche per avvicinare i ragazzini a queste storie che spesso non hanno a disposizione grosse cifre economiche o che si fanno comprare i fumetti dai genitori e quant'altro magari passando in edicola e benvenga al bonellide sicuramente personalmente non mi piace questo sicuramente lo devo dire non mi piace però hanno il loro perché e il loro perché è nell'essere al momento il formato più economico nel quale recuperare alcune storie e infatti Panini sta per l'appunto facendo questa operazione secondo me molto intelligente di ristampare queste vecchie glorie in bonellide buttarle in edicola e via andare se vuoi recuperare queste storie sono un ottimo compromesso rapporto qualità prezzo dove compro i Gunpla ovunque dipende ne ho presi quando sono andati in Giappone ne prendo un po' online ci sono gruppi su Facebook in cui persone importano da Cine a Giappone i Gunpla li prendo un po' ovunque arriveranno tra l'altro anche le live su montaggio Gunpla quindi stai tonnato perché probabilmente già la prossima settimana faremo una bella live di montaggio Gunpla e comunque sì non ho un posto ben definito li prendo un po' ovunque tutto qua bene quindi se tutti i dubbi sono stati fugati io ma figurati grazie a te per essere qua con noi con me o con gli altri anche nella chat come al solito vi ringrazio per essere qua con me vi ricordo di seguirmi su tutti i vari social perché usciranno da verso diversi video su YouTube anche se non fate ancora parte tra l'altro del gruppo Telegram entrate nel gruppo Telegram perché lo sto usando molto per fare anche delle cose esclusive per il gruppo Telegram quindi se non ci siete trovate i link nelle varie bio dei vari social grazie a tutti per essere qua con me ci vediamo alla prossima live e al prossimo video buona serata a tutti ciao